Guarda, papino, ti ho portato una bella birra. Oh, grazie, margiotta. Ma non è di quelle che si sfidano. È sicuro che l'uomo e la scemmia non possono avere qualche parentela? Sicuro, quanto sono sicuro che Gesù odia l'hip-hop. Dai, apriti. Voglio quello che hai dentro. Anzi, se vuole... Homer? Ma perché non... Homer, sto cercando di... Vuoi piantarla di belaterare, gorilla, col faccione da scimmia? Signor Flanders, lei ha giurato di dire la verità. Può sostenere che quest'uomo non può avere alcun legame con quella scimmia? Hai vinto, Lisa. Questa corte stabilisce che la legge che vieta l'insegnamento dell'evoluzione è abrogata. Ah, ma era di quelli che si sfidano.